Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Il dominicano San Martino de Porres aveva per madre una serva panamense di origine africana che era stata liberata ed aveva preso il nome di Anna Vasquez e per padre un nobile spagnolo Giovanni de Porres che per qualche tempo non riconobbe il figlio mulatto. Martino nacque a Lima, nel Perù, il 9 dicembre 1579 e fu battezzato nella parrocchia di San Sebastiano. Dapprima visse nella miseria insieme alla madre e la sorellina Giovanna ma all'età di circa otto anni il padre si occupò dell'educazione dei figli. Li portò con sé a Guayaquil in Ecuador dove i due fratellini poterono vivere con maggior serenità e agiatezza. Frequentando due farmacisti, Martino prese confidenza con la medicina in genere passione che continuò a coltivare anche quando apprese l'arte del barbiere nella bottega di Marcello de Rivera. A 15 anni sentì la chiamata del signore che lo spinse verso l'ordine dominicano già attivo a Lima sin dai tempi del primo vescovo del Perù il dominicano Fra Vincenzo Valverde che era stato il consigliere di Francisco Pizarro il conquistatore. Si presentò perciò ai dominicani della chiesa del Rosario che era anche la prima chiesa americana dedicata alla Madonna del Rosario costruita poco prima del 1539 anno in cui si costituì la provincia dominicana del Perù. Annesso alla chiesa c'era un grande convento con un centinaio di frati che ospitava anche il seminario centro di studio di filosofia e teologia. I dominicani accorsero Martino come aiutante detto Donato dedito ai lavori più umili con grande disappunto di suo padre. Tuttavia Martino era gioioso di essere chiamato alla semplicità tenendo spesso la scopa in mano perché è dedito alle pulizie e nelle pause era di aiuto alla comunità religiosa con le acquisite conoscenze mediche non di rado aiutando anche coloro che l'avevano deriso e offeso. Si tramanda che trovandosi il convento in grave difficoltà finanziarie ed oppresso dai debiti il priore uscì con alcuni oggetti preziosi allo scopo di venderli e con il ricavato pagare i debiti. Memore probabilmente di San Domenico di Guzman che si era offerto di riscattare il fratello di una povera donna consegnandosi lui come schiavo Martino rincorse e raggiunse il priore che stava andando alla piazza del mercato ancora affannato per il cammino spedito gli propose di non vendere i preziosi del convento ma di vendere lui stesso come servo. Cosciente dell'immensa umiltà del frate e del suo amore per il convento il priore gli disse torna indietro fratello tu non sei da vendere. Umilissimo ma non ignorante tanto che vengono tramandate testimonianze sulle sue competenze in merito alla filosofia e teologia tomista. Frequenti erano i suoi incontri con gli studenti del seminario e con essi si intratteneva sulle questioni della cosiddetta filosofia scolastica come ad esempio quella dell'essenza e dell'esistenza in Dio. Un giorno due studenti stavano parlando fuori dalla scuola proprio di questo tema e vedendo passare Martino gli chiesero cosa ne pensasse. Probabilmente nella loro voce ci doveva essere una nota di presa in giro pensando che l'argomento non fosse alla sua portata. Come se nulla fosse Martino diede questa risposta. Non dice Sant'Ommaso che l'esistenza è più perfetta dell'essere ma che in Dio l'essere è lo stesso che esistere? Tanto rimasero sorpresi da questa risposta che i due allievi riferirono l'episodio al direttore degli studi il quale commentò così l'accaduto Martino alla scienza dei santi. San Martino accoglieva poveri malati con sorprendente carità. Li soccorreva senza mai dimenticare di parlare della fede in Dio e di come questa fede dovesse essere vissuta quotidianamente. divenne in pratica un catechista. Scrive padre Gerardo Gioffari Domenicano Dovette essere proprio questa sua dedizione all'ordine questa scienza dei santi e tutta la sua preziosa opera in convento a spingere i superiori a non tenerlo più soltanto come donato ma a fargli emettere la professione solenne come frate converso 2 giugno 1603 Martino impresse allora alla sua vita una svolta più ascetica con lunghe ore dinanzi al Santissimo Sacramento e flagellazioni notturne. Particolare meditazioni faceva intorno alla passione di Gesù anzi secondo alcune deposizioni al processo apostolico del 1683 ebbe il dono dell'estasi e fu visto sollevarsi diversi palmi da terra. Fra Martino cercò sovente la compagnia di altre anime elette come il converso Domenicano Giovanni Macias del convento di Santa Maria Maddalena benché semplice cooperatore Martino divenne punto di riferimento di saggezza e di spiritualità perciò andavano nel convento per incontrarlo uomini di alto lignaggio come per esempio il governatore ed il vice re inoltre si occupava dei bisogni degli indigenti e in particolare degli indios quando Lima venne colpita dalla peste si prodigò nel servizio e nell'assistenza sanitaria prendendosi cura di ben 60 frati servitore, uomo delle pulizie, consigliere, infermiere, medico ma anche barbiere del convento un giorno del 1635 nel loro cimitero trovò un quattordicenne seminudo che in risposta alla sua domanda disse di venire da Eres de los Caballeros in Estremadura portatolo nella sua cella e datogli qualche vestito gli disse che per mangiare e dormire poteva tornare là ma che durante il giorno doveva darsi da fare per trovare un lavoro nel frattempo gli insegnò il mestiere di barbiere poi Giovanni, affezionatosi a Martino gli chiese di accettarlo come suo assistente egli allora lo accolse e lo incaricò di una missione particolare portare l'elemosina a quelle famiglie già ricche ma ora ridotte in miseria oltre alle medicine preparate con le erbe officinali provenienti dalla fattoria di Limatambo Framartino curava attraverso i miracoli la sua fede era così grande che il Signore interveniva direttamente per risolvere i casi che egli gli sottoponeva con la preghiera e i sacrifici con la fama della sua santità nobili e prelati che passavano da Lima raramente omettevano una visita al convento e a Martino anche per una veloce visita medica di questi nobili sono noti alcuni casi come quello di Feliciano della Vega eletto arcivescovo del Messico e del governatore alla proposta di seguire l'arcivescovo in Messico Martino preferì però restare in convento e guarire i poveri fece edificare per i bambini indigenti il collegio di Santa Cruz fra i primi sorti in America un'iniziativa molto complessa perché non riuscì a sensibilizzare né l'autorità civile né quella ecclesiastica il convento da parte sua sempre oppresso dai debiti si limitò a dargli la facoltà di raccogliere i fondi per la costruzione del collegio finalmente trovò alcuni benefattori grazie ai quali cominciò i lavori affidando la gestione a Matteo Pastor suo amico e sostenitore scelse quindi gli insegnanti che stabilmente dovevano occuparsi di questi bambini orfani o abbandonati che qui trovarono una casa e una valida istruzione ed educazione cattolica San Martino è ricordato anche per la sua grande familiarità con tutte le creature di Dio compresi gli animali aspetto che lo riconduce a San Francesco d'Assisi nella letteratura che lo riguarda a tal proposito rimandiamo a due libri seri e ben scritti Giuliana Cavallini i Fioretti del Beato Martino Roma 1957 e Reginaldo Francisco dell'Ordine dei Predicatori San Martín de Porres il primo santo dei Negri d'America Bologna 1994 si racconta di dialoghi che egli teneva con gatti, cani e soprattutto topi il suo essere completamente in Dio uno e trino e tutto di Dio gli permise di entrare nell'armonia del suo regno sia quello naturale che soprannaturale ecco che la sua perfetta innocenza lo rese capace di doni straordinari di fronte agli occhi degli uomini comuni tanti i testimoni oculari che narrano i suoi prodigi compiuti come amico e dominatore degli animali al suo processo di beatificazione Fra Martino morì la sera del 3 novembre 1639 circondato dai frati in preghiera il giorno dopo con la partecipazione di Feliciano De Vega arcivescovo di città del Messico e delle autorità cittadine la salma venne tumulata nella cripta sottostante alla sala capitolare del convento dominicano la sua fama di santità già molto diffusa in vita continua a circolare ed ampliarsi fra la gente e tutt'oggi specie in Sud America la devozione nei suoi confronti continua ad essere radicata proclamato patrono delle opere di giustizia sociale del Perù da Papa Pio XII nel 1945 Martino fu canonizzato da Giovanni XXIII il 6 maggio 1962 e poi designato patrono dei Barbieri da Paolo VI nel luglio del 1966 oggi c'è RadioRomalibera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Grazie a tutti